Dati incoraggianti che riempiono di soddisfazione. Sono le parole del sindaco di Pesaro Matteo Ricci nell'annunciare i primi numeri relativi al nuovo giro di screening che ha interessato finora le scuole medie e parte degli istituti superiori della città, dove l'operazione andrà avanti anche la prossima settimana. Il primo cittadino è intervenuto anche in merito al numero di casi inizialmente considerati positivi e non confermati poi come tali dai tamponi molecolari. I test rapidi utilizzati nelle scuole, ha spiegato Ricci, risultano essere di ultima generazione e quindi sensibili anche all'individuazione di altre tipologie di SARS. Per avere l'esito finale, ha ricordato il sindaco, è necessario in ogni caso attendere il controllo molecolare. Proprio per questo e a causa dei ritardi registrati da parte di ASUR nella prima settimana di screening sull'esito dei test di controllo, l'amministrazione ha deciso di rivolgersi ad un centro privato di analisi per avere una risposta definitiva sui casi segnalati positivi dai tamponi rapidi entro 24 ore. Tempistiche che permetterebbero di evitare quarantene nel caso in cui i test degli studenti si dovessero rilevare negativi ai controlli definitivi. Oltre 3.600 ragazzi già tamponati, 10 positivi, e la prossima settimana, martedì e mercoledì, se non sbaglio, ci sarà il secondo turno alle scuole superiori. Una grande operazione di massa che ci fa dire che oggi Pesaro ci sono le scuole più sicure d'Italia, ovviamente la sicurezza totale non ci può essere, ma aver controllato tutti questi ragazzi per noi è un grandissimo risultato e invito anche la prossima settimana ad aderire. E poi i positivi ci dimostrano che tutto sommato la scuola è un luogo sicuro, anche se non avessimo individuato quei 10 positivi probabilmente sarebbero diventati 100, forse di più. Quindi dimostra l'efficacia di questo strumento. Non ci aspettavamo che l'Azur ci mettesse tutto questo tempo per darci l'esito dei molecolari. Ogni screening con i tamponi veloci ha bisogno della conferma del molecolare. Quando abbiamo visto nelle scuole medie che passavano 4, a volte 5 giorni, abbiamo cambiato strada. Del resto ormai paghiamo tutto noi, paghiamo i tamponi, paghiamo i medici, paghiamo gli infermieri. Mila giustamente dice andiamo a un laboratorio privato e paghiamo anche il molecolare. E adesso dalle scuole superiori il molecolare arriva in 24 ore e quindi un positivo del tampone veloce viene subito nell'arco di 24 ore la risposta con il molecolare. Quindi non scattano quarantene quando non serve, scatta la quarantena quando c'è la conferma del molecolare. Stessa cosa verrà la prossima settimana. Del resto ormai è tutto un lavoro che purtroppo è a carico del Comune. La Regione non ha voluto collaborare, ahimè. E insomma alla fine abbiamo aggiunto una piccola spesa che però consente di ridurre il tempo al minimo dal tampone veloce al molecolare. Ricci ha infine annunciato l'intenzione e la possibilità da parte dell'amministrazione di dare vita anche per il mese di maggio all'esecuzione di un nuovo screening per le scuole.